Una nuova programmazione con cui andremo a posizionare lungo Viale Roma in Campomarzo la fiera della Natale dell'Epifania, andando di fatto quindi a liberare il centro storico durante la settimana più importante da un punto di vista commerciale, appunto quella di Natale, da troppi articoli dimostrativi che avevano preso il sopravvento nelle ultime edizioni di queste due iniziative. Una programmazione che ci consentirà quindi di continuare nell'opera di rivitalizzazione di Campomarzo e contestualmente di valorizzare gli ambulanti che vivono quotidianamente e settimanalmente i nostri mercati, consentendo loro nella settimana di Natale in Piazza dei Signori di poter rimanere il martedì e il giovedì fino alle 6 di sera. Ricordando peraltro che da due anni come amministrazione stiamo investendo tantissimo nei mercatini di Natale con una merceologia natalizia tipicamente e che quest'anno cercheremo di sviluppare non solo lungo Corso Fogazzaro, ma andando a posizionare le casette in tanti angoli del centro storico. Grazie a tutti!